Sono stati presentati nella sala giunta del comune di Pordenone alcuni fra i più significativi interventi del piano urbano di mobilità sostenibile che modificano il sistema della viabilità automobilistica e ciclabile in diversi punti della città. L'assessore alla mobilità Bruno Zille con l'ausilio del mobility manager Massimiliano Manchiaro ha illustrato i progetti delle nuove rotatorie in città. Oggi abbiamo visto alcuni progetti importanti per quanto riguarda la sistemazione e soprattutto la fluidificazione della viabilità cittadina. In primis il nodo di via Montereale con Viale Venezia che costituisce già da tempo uno dei problemi più grossi e quindi approvando questo progetto possiamo dare anche in quell'ambito la possibilità di migliorare il traffico questo sia per quanto riguarda la Statale 13 sia per quanto riguarda l'assetto cittadino. Altro aspetto importante abbiamo visto oggi i progetti di altri due importanti nodi quello di Piazzale Duca d'Aosta e di Largo San Giovanni questo per rendere più fluido il traffico all'interno del ring ma anche per dare una modalità migliorativa per quanto riguarda l'assetto anche e continuità soprattutto delle piste ciclabili quindi nodi che vengono messi in sicurezza e nel contempo andiamo anche a riqualificare un nuovo modello per quanto riguarda il sistema viario. Avremo già a breve immediatezza degli interventi soprattutto sul ring cominciando da Piazzale Duca d'Aosta e poi a seguire Largo San Giovanni già vedremo qua alla fine dell'anno che metteremo a regime questo nuovo sistema a rotatoria e dopodiché seguiranno immediatamente i lavori per cui prevediamo questi interventi entro la prossima primavera che siano già esecutivi e quindi fruibili da parte della popolazione. Grazie a tutti